50 alberi di varie specie, piantumati proprio lì dove sorgevano accumuli di rifiuti e detriti. Un gesto importante, quello promosso da Rotary Club Biceglie, celebrato in occasione della Giornata Mondiale della Terra per incoraggiare e difendere la sostenibilità ambientale. L'obiettivo dell'iniziativa propria dell'associazione presieduta dall'architetto Pierpaolo Sinigallia è stato quello di riqualificare l'aria e in particolar modo quel tratto del lungomare di Levante in zona San Francesco a Biceglie che versava in uno stato di degrado e abbandono, con il fine anche di siglare un patto con le nuove generazioni affinché possano vivere in un mondo migliore. Il pianeta che dobbiamo consegnare alle generazioni future, ha dichiarato il presidente del Rotary Club Biceglie per Paolo Sinigallia, dovrà essere in condizioni non peggiori rispetto a quelle in cui l'abbiamo ereditato noi. E' questo il diritto delle generazioni future, che dovranno poter usufruire dello stesso tipo di risorse e servizi ecologici di cui possono beneficiare le generazioni attuali. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Conf Commercio Bari-Bat, diretta da Leo Carriera, e con il sostegno dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco facente funzioni Vittorio Fata, e con il supporto del gruppo Ripalta Area Protetta di Biceglie.